segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e oggi è tornato a kiev ciao claudio ben trovato buongiorno a voi continuiamo a portarvi dentro qualcosa di esclusivo e che in questo caso si collega anche con quello di cui avete parlato è in abiti civili ma l'avevate vi l'avevamo già mostrato in passato lui è il comandante ciorni di una milizia una delle milizie che compone i combattimenti di karkiv e che si stanno preparando probabilmente per andare a isium o zaporizia non lo sanno ancora per chi ci ascolta isium è la città strategica dove si dove si trova attualmente la sfida più grande perché è il nesso tra la tenaglia russa e la contro tenaglia vediamo sulla carta claudio mentre parli perché è molto è palese si trova molto vicino al confine russo si trova praticamente alle porte delle repubbliche autoprogrammate del donbass ed è ovviamente come vedete una porta d'ingresso fondamentale allora questa vi faccio vedere le immagini sono più importanti in questo momento questo è un è una milizia cristiana siamo dentro una delle loro basi segrete della capitale è in abiti civili perché sapete che chi è venone più una zona di battaglia loro si ispirano ai simboli religiosi del cristianesimo e per quello che è molto peculiare la composizione ma come vi dissi in passato nel loro questo il simbolo lo riconobbi all'epoca di costantino qua non siamo all'interno di una base ho visto poco fa che ci sono anche dei cimeli che hanno catturato i russi come questo questo qua lo vedete dal colore questo qua è una veste militare catturata etatrofeo da si c'è gli occhiello contro richiesto questa è una veste questa è un altro contenitore russo toge ok hanno catturato anche delle granate dell'esercito russo sui fronti che sono tutte immagini dall'interno di una base segreta che queste sono questa parte quella parte esplosiva per spiegare anche chi ci ascolta ma non è quella che innesca cioè io posso tenerla in mano senza grosse problemi il punto esplosivo è questo infatti lo prendo con più delicatezza questo è un prime vuol dire che si innesca va a esplodere una prima esplosione se questo esplodesse adesso nella mia mano mi salterebbe la mano ma la parte che poi va a uccidere è questa che si scompone in tantissimi di questi frammenti questo è stato catturato l'esercito russo lui ci diceva inoltre che molte delle cose catturate ovviamente vengono utilizzate lo sapete già e quindi qua ne rimangono solo alcune che loro tengono tra virgolette come trofei cosa abbiamo trovato di strano o meglio di particolare datemi un secondo di tempo in più lui opera i droni i droni strategici mojnakrit e tadron gli ho chiesto di poterlo aprire loro erano una milizia politica all'inizio di maldà puoi chiedere al comandante della milizia cosa pensa della situazione di mario perché io sono mi interessa molto capire chi combatte per l'ucraina cosa pensa di quello che è accaduto a battaglione azov di questa resa che pure il governo ucraino chiama evacuazione certo glielo chiedo subito anche perché due dei combattenti che sono dentro la sovstal in realtà erano della sua milizia li ha sentiti pochi giorni fa e glielo chiedo subito finisco un attimo per far vedere cosa c'è qua questi sono i droni che stanno facendo la svolta in questa guerra ci spiegava e vi spiegai anche in passato che se prima ci mettevano con una tecnologia normale bellica circa 100 colpi per distruggere un mezzo russo vedete capi applichiamo questo poi al territorio le immagini che vi ho mostrato con questi droni a utilizzo mediatico normalmente per riprese aeree normali ci mettono 10 colpi quando va male 10 contro 100 e tutti i civili lui era un civile ovviamente prima di questa guerra era parte un'organizzazione politica che si chiamava santa maria di cui fanno parte quei due combattenti che ora sono nell'asov stale che ha sentito l'ultima volta qualche giorno fa ma qua c'è anche qualcos'altro abbiamo trovato una bandiera italiana per caso nel senso che si è rimasti un attimo stupiti anche noi e sotto ci sono dei lanciarazzi funzionanti questi sono dei e lo che non sono però stati mandati dal dall'italia poi abbiamo capito la bandiera è qua perché gli aiuti alimentari arrivati da roma servono a sfamare anche i combattenti delle milizie quindi sono arrivati di più in effetti mandare aiuti militari carmi qui in italia alimentari questi sono britannici alimentari sono stati inviati ormai sono stati inviati ormai 4mila pezzi questi sono degli antitanche di ultima generazione britannici si portano a spalla per far capire a chi ci ascolta che ci sta seguendo in questo momento e che se no sembra che parliamo geroglifico questi fanno la differenza in combattimento e sono stati prodotti dall'inghilterra negli ultimi anni ma è importantissimo come racconti l'audio perché il tema è gli armamenti degli armamenti molto sofisticati e molto moderni come sappiamo come ci ha raccontato dal terreno ha fatto la differenza c'era dato agli ucraini una capacità di diciamo ripresa riscossa no e anche di riconquista di alcuni territori che sono anche molto ovviamente molto grazie alla alla determinazione del popolo ucraino ma anche molto grazie a queste armi occidentali molto sofisticati perché questo neghiamo certo ma in pratica per chi se lo che ci sta ascoltando da casa come funziona quella la differenza è a spalla tutto questo questi 12 kg e mezzo vado memoria si portano a spalla e permettono con una sufficiente precisione superiore ai meccanismi precedenti di colpire un mezzo blindato un carro armato e si riescono a colpire la santa barbara quindi la parte centrale dei caramati sovietici avete visto spesso sobbalzare la torretta del carmato le torrette le caramati erano tutte a terra come mai questo colpisce la parte esplosiva del carmato esplode all'interno e la torretta si sgancia ecco qua vediamo degli e lo in un deposito centrale una base segreta che in mano appunto una milizia quello che vi ho spiegato da dove arrivano le armi e come arrivano però in questo caso sono arrivate tramite l'esercito ucraino io li chiederei appunto quello che mi avevi chiesto mirta mi stanno chiedendo che cosa senti viene un attimo tania che cosa provi per il fatto che in questo momento c'è questa situazione che sembrerebbe di resa o di non chiara informazione sulla lazovstal e che rischiano diversi i tuoi soldati i vostri soldati di finire nelle città occupate russe come hanno dichiarato i russi quindi in ucraina ma nelle zone occupate sottraduciamo intanto vi faccio vedere un po di immagini perché qua c'è anche un deposito che è chiuso adesso magari ok se vuoi risponderci kalashnikov ok vediamo cosa ci dice le radio prego noi si non si trovano per e riva e muzza dolio domenica manca l'office mario polia basmone sull naminant evol cinema gli origini e i momenti traduci già tanya perché così almeno riescono a sentire eccoci qua sento che sente un sacco di dolore per tutto il maripel di tutti che combattono i nostri stagli però anche un pezzo grande di dolore ma anche tutte le persone che stanno lì sono gli eroi narrazi ma non possiamo commentare testo vittoria sia sarà sto mostro adesso non possono non possono fare i commenti su quello che sta accadendo adesso in asaustal perché una informazione sensibile e non vogliono fare del male in questo modo mi pare che ancora una situazione troppo complicata perché loro la commenti no naturalmente specialmente perché in qualche modo è in una situazione di gerarchia militare claudio io torno in studio perché voglio insomma con i nostri ospiti capire quello che sta accadendo e cosa vuol dire questa questa evacuazione barra resa dell'azzov stale del battaglione azov vedo che è arrivato a trovarci